Ciao a tutti e bentornati sul canale, questa è una Diecast Review un po' inusuale rispetto a quelle che faccio in genere, in genere vedete che sono sempre le Formula 1 che sono in edicola della Centauri, a questa volta è un Audi RS6 della Gumball 3000 di un influencer svedese che si chiama Jon Olsson, Jon Olsson è un campione di, credo snowboard se non sbaglio, svedese, di quelli che fanno la vita tipo i Ferragni, quindi strappagati da sponsor loro, campione di qua, campione di là, quando fanno il bambino va tutto online, quindi hanno fatto in pratica, lo hanno fatto partecipare penso l'anno prima del Covid 2019, se non mi ricordo male c'è la storia, comunque se la cercate online, con un Audi RS6 pesantemente ammiocuginizzata, questa l'hanno fatta mio cugino come Dio comanda, quindi con un body kit orripilante nella parte frontale, altrettanto orripilanti allargamenti sulle ruote, ruote agghiaccianti con la riga rossa, proprio un gusto da, ma che neanche l'ultimo dei kebabari fa una porcata del genere a una macchina, e il modello oltretutto è fatto di merda, nel senso che è fatto veramente male, la macchina vera nota tra l'altro, lui se l'era fatta fare, credo da qualcuno straricco, queste qua è tutta gente a cui regalano le Lamborghini, regalano le Ferrari, quindi non sono macchine che loro vanno, comprano con un criterio, gli vengono regalate per pubblicità, quindi sicuramente gli è stata regalata l'Audi, lui ha fatto fare un tuning a mio cugino, non so onestamente da chi, da qualche tedesco, da qualche cretino, non lo so, wrap zone, no, wrappata come Dio Comanda, poi ci ha fatto la gomba al 3000, che è una gara di delinquenti che fanno in giro per l'Europa, lo chiamano rally, no, perché questi corrono come degli assassini, sono anche venuti a Milano con macchine da riccone, vanno in giro, yeah, yeah, bro, 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 fanno un gran casino, spesso e volentieri fanno anche dei botti come Dio Comanda, ne fecero uno un po' di anni fa in Romania dove stava finendo veramente male, nel senso che hanno fatto un incidente, hanno ammazzato una famiglia e quelli che hanno visto l'incidente li stavano ammazzando, quindi sono stati salvati in corner con la polizia privata, pagata per stare a seguito di sti coglioni ed è finita male così. La macchina di John Olson, cioè questo Audi RS6 qua, a mio cuginizzato, quindi già l'Audi RS6 è una macchina da 600 cavalli, penso che ne abbia presi 800, una roba del genere, però su un camion, perché questi bidoni qua che fa l'Audi sono dei camion da oltre due tonnellate, probabilmente 4x4 se non mi ricordo male, potentissime, sono quelle che fanno passare la voglia di comprare le Ferrari di seconda mano alla gente, perché un mostro del genere fa come niente 330-340 all'ora, però ripeto è un vagone, nel senso che ha i freni di un camion, le dimensioni di un camion, il peso di un camion e quindi boh, però va bene, la mentalità tedesca di avere bidoni del genere ci sta. Come dicevo, la macchina vera di questo campione svedese, di questo John Olson, è stata ovviamente rubata da qualche cugino in Svezia e ritrovata completamente bruciata in Olanda, ad Amsterdam, c'è tutta la storia, se cercate John Olson, Audi RS6 viene fuori il mondo di questo biondino, che poi gli hanno rubato l'Audi, ma lui ha Lamborghini, Porsche, Ferrari, tutta roba pasticciata, mio cugino, che farebbe venire il riverbero di Billy a un maiale, comunque hanno quel tipo di vetture lì. Io l'ho comprata perché è l'unica Audi RS6 che esiste in una 24, in questa versione è mio cugino, con lo scopo di fare quella di un altro youtuber, che secondo me è molto più interessante di John Olson, cioè Matt Armstrong, è un ragazzo inglese, orribile lui con i dentoni, è un rosso inglese che prende macchine incidentate al canale YouTube e le fa diventare nuove. Lui ha preso un Audi RS6 incentrata come dio comanda in UK, davanti era incentrata, sta macchina qui l'ha rifatta tutta completamente, gli ha fatto anche lui un body kit terrificante come questo qui, e poi ci è andato un po' in giro a farsi pubblicità. La fusa un paio di volte, nel senso che aveva messo anche lì un tuning mio cugino nel motore, queste sono tutte macchine che partono come tipica mentalità dell'Audio Volkswagen, Volkswagen, come la chiamano molti, partono con un tipo di settaggio da parte della casa madre, che già è potentissimo, nel senso che avere una macchina da 600 cavalli, che cazzo ci fai con 600 cavalli su un camion del genere, però mappando le centraline, aggiungendo scarichi, mettendo boh, che cazzo ne so, turbine, filtri, roba più grossa nel motore, sono macchine che prendono come niente 800 cavalli, con la differenza che però se non rispettate gli ottani delle benzine in cui queste macchine vengono preparate, come ha fatto sto ragazzo qua, dato negli Stati Uniti, la macchina la cotta. C'è proprio il video di quando gli scoppia la macchina, si vede bene, lui poi fa il meccanico amatoriale, quindi è interessante da vedere, seguitelo, seguitelo, è in inglese però. Il modello in questione a me è stato venduto da uno scappato di casa tedesco, è molto costoso, nel senso che io lo cercavo da non spendere tanto, ma questa è una cagata che comunque buttate via 50 euro, il modello è fatto molto male questa volta, io in genere sono sempre positivo verso questi modelli qui, per quanto sono giocattolotti dei cast, questo è costoso perché nell'intenzione è stato fatto un gadget con lucine, suono e frizione, vedete le frizioni come le macchine dei bambini piccoli, no? Quella, guarda, la frizione, io mi vergogno a far vedere sta roba, io mi vergogno. È però l'unica Audi RS6 con il bodykid orrendo che consente di fare questo tipo di macchina, qua c'è nella sua orrendità, è comunque un soggetto interessante, carino, per quanto il modello sia fatto, non è un modello, questo è proprio il giocattolo delle peggiori risme. A me è stato venduto da uno scappato di casa tedesco e la scatola del modello è sta merda che vedete qui, un po' per non far vedere il mio indirizzo. Mi è arrivato in una busta del genere, ovviamente modello danneggiato, ovviamente reclamo tramite ebay, e poi è venuto fuori che lui l'ha comprato da un cinese in Italia che voleva la spedizione Cronory mandata a lui, quindi degli scappati di casa. Modello fatto veramente male, dettagli inesistenti, specchietti grossi, ha tutte le aperture perché è tutto apribile questo accesso qua, quindi ti danno anche la palettina per aprire la cuginoporta, durissimo oltretutto, con l'interno giocattolissimo, giocattolissimo, fatta veramente male con i piedi, e oltretutto, ripeto, senza scatola, con il frontale danneggiato, mi è arrivata con questo pezzo qua rotto, proprio staccato, questo pezzo qua picchiato e piegato, perché ha preso sicuramente una tozza, è arrivata con il peruviano che me l'ha messo in mano dell'SDA, quindi non puoi pretendere che il modello arrivi in tatto. Ha dentro tutto questo apparato, penso, di luci, lucine, cazzate, amenicoli completamente inutili, cioè già il modello è un ripilante, ma mettergli anche il lucino è proprio il massimo, c'è una roba da vergognarsi, veramente da vergognarsi, cioè ho meno vergogna a comprare i sex toys online che non a comprare sta schifezza, comunque. In più ti danno sopra una valigie, in pratica, di quelle tutte carenate, probabilmente anche lei, fatta per la specifica per l'Audio RS6, con dei ganci orripilanti che chiaramente non assomigliano a quelli veri utilizzati della macchina, la macchina stessa ha finiture pessime, finita veramente da cani, vedete, anche lì nel posteriore è verniciata malissimo, sono tutti dettagli schifosi che, per esempio, nelle centauri edicola non avete, non sono fatte così male, queste fatte malissime invece, scratch lì, scratch lì, scratch lì, fatta con i piedi, finita veramente malissima, e quindi sono stati questa volta uno dei rarissimi casi in cui mi sento di dire che ho veramente buttato via 50 euro, il modello è orrendo, è orrendo, andrebbe completamente smantellata, super dettagliata, ripeto, è uno di quei casi in cui c'è solo questa, nel senso se volete l'Audio RS6 a mio cugino, se volete un RS6 normale c'è il modello della Welly che penso sia la base di sta merda, se poi volete invece una cosa un po' più bella c'è, che è una correzione, è sempre quella in pratica della Welly, ma fatta in resina, che costa come un RS6 vera, c'è il modello di Alfa Model in resina per fare l'RS6 stradale, se volete fare invece quella di John Olson, o quella nel mio caso di Matt Armstrong, avete bisogno delle accuginate, il kit, il body kit cugino, no? con i buchi nella carrozzeria già pronti, quindi tutta roba che andrebbe ripresa, stuccata, riverniciata, viene fuori un bel lavoro titanico, però le parti sono più o meno quelle, mi sembra che le ruote siano anche abbastanza somiglianti alle ruote del Matt, vedete che sono fatte talmente male, che il disco con la pinza è tutt'uno con il cerchio, quindi orrende, è proprio terrificante, terrificante, a me non interessa molto, ripeto, ho archiviato tanta di quella merda nel corso degli anni, anche pagata, anche cifre molto più alte, quindi non mi cambia un gran che sto discorso qui, la metto lì, non ho una scatola, quindi la metterò dentro una busta di plastico, recupero una scatola di un burago vecchio, per tenerla perlomeno al coperto, visto i soldini che è costata, però ecco consiglio mio, anche se siete fanatici delle Audi, se siete proprio innamorati del marchio, pensateci bene, perché qua sono veramente soldi buttati nel gabinetto, e quindi questa volta il consiglio è di lasciarla dove sta, tanto ripeto, non in voglia, perché sono soggetti talmente strani, talmente particolari, che sono difficilissimi da trovare in giro, quindi non cercatela neanche perché non ne vale la pena, questo è quanto, ripeto, acquisto infelice, questa volta con la frizione sempre attaccata, quindi ha sempre il rischio di finire per terra, sto orrore, non che si spacchi di più, cioè non è che cambia molto, prende l'altro pestone, magari si raddrizza dall'altra parte, quindi va bene, va bene per il cammino, oltretutto non avendo la scatola, e quelle non sono ditate mia, alleditate su tutti i vetri, tutta pasticciata, una merda, cioè una roba così 50 euro, veramente una merda, una qualunque solido ha un'infinita dignità in più di una porcheria del genere, e quindi statene alla larga, o scena, grazie e alla prossima.